Salve a tutti cari amici del canale, ben ritrovati, buon venerdì, venerdì 3 novembre, vigilia di Milan Udinese. Ora manca poco alla conferenza stampa di Mr. Stefano Pioli, l'allenatore rosso-nero parlerà oggi a Milanello e chiederemo anche conto degli infortunati, insomma domande anche sui recuperi. Quindi sapete che gli infortuni incidono tanto sulla stagione di una squadra. Giocare con i titolari è una cosa, giocare con le riserve oppure le riserve delle riserve è un'altra cosa. Tanto è vero che Stefano Pioli ha anche dei dubbi, dei dubbi contro l'Udinese se schierare dal primo minuto per esempio Luca Romero sulla fascia destra. E' vero, è una domanda che gli abbiamo già posto l'altra volta, la domanda tra l'altro l'avevo fatta proprio io. In caso di assenza di Chukueze, giocatore ancora infortunato, e in caso di rotazione di Pulisic, giocatore che non può giocarle tutte, non è un robot, gioca tutte le partite 90 minuti, tanto è vero che ha avuto anche un affaticamento muscolare, che avrebbe preso il posto dell'americano e del nigeriano, visto che entrambi sono assenti. La risposta di Pioli è stata Luca Romero e infatti con Napoli è entrato Luca Romero. Purtroppo, oserei dire, non per colpa di Romero, ma perché giocare a Napoli con Romero e Pellegrino sinceramente è anche troppo per una squadra che vuole raggiungere il primo posto. va d'accordo tutto, ma è ovvio che la qualità del gioco della squadra cali se nel secondo tempo con Napoli il Mian è costretto a giocare con due ragazzini, tra l'altro uno all'esordio assoluto, quindi il problema è arrivare a giocare con le riserve delle riserve, non è colpa di Pellegrino e Romero. Comunque, acqua passata. Romero scelta primaria, soluzione principale per Stefano Pioli sulla fascia destra, ma attenzione anche ad altre soluzioni. Non le scartiamo ancora perché comunque la gara con l'Udinese è molto delicata, il Milan con l'Udinese fatica sempre, non va sottovalutata questa partita, pure perché il Milan arriva da una sconfitta e un pareggio in campionato. Non può perdere altri punti, l'ambiente è teso, è vero ieri sera c'è stata una cena di squadra, Pioli e Calabria hanno portato tutti a cena per fare gruppo, per unire la squadra, però comunque l'ambiente è sempre un po' teso perché quando ci sono sconfitte, quando si perdono punti per strada, c'è sempre quel senso di voler riprendere subito a vincere. E quindi la gara con l'Udinese è fondamentale da questo punto di vista. Quindi Luca Romero rappresenta la prima soluzione a destra, sulla fascia destra. Attenzione anche alla possibile soluzione Okafor, anche se Pioli in conferenza aveva detto che il giocatore preferisce giocare a sinistra, lui lo svizzero è più un vice leao che una soluzione a destra, ma noi la teniamo sempre lì. Poi c'è l'opzione Musa, Musa che comunque quando gioca da centrocampista, quindi da mezzala a destra, molto spesso avanza, anche con Napoli arrivato più volte sul fondo. Ricordo che contro il Genova aveva fornito proprio dalla fascia destra un bel cross per il gol di Pulisic all'87esimo contro il Genova, gol vittoria. Quindi occhio all'opzione Musa che può dare delle soluzioni con caratteristiche diverse al Milan sulla corsia di destra. Bisogna dire, per onestà, che Pioli sta comunque pensando di schierare Luca Romero, che è il sostituto naturale, diciamo così, di Pulisic. Pulisic che potrebbe non farcela con l'Udinese, attendiamo ancora l'allenamento di oggi, ma dovrebbe essere pronto più per la partita contro il Parisa Germain. Stessa cosa per l'Off2Cic che comunque ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, ma al massimo gioca una porzione di gara, uno spezzone di gara contro l'Udinese, anche lui per essere pronto contro i parigini. La gara contro i francesi è troppo importante, quindi Pioli sta cercando di preparare la squadra con più titolari possibili verso la partita di martedì. Anche questo fa parte della strategia di una società durante la stagione. E poi c'è Adli, Adli che vorrebbe giocare di più. Adli ha un desiderio, ha una richiesta, è quella di essere più utilizzato, di essere preso più in considerazione. Occhio che contro l'Udinese è in ballottaggio con Krunic, perché Adli potrebbe giocare titolare con l'Udinese e Krunic potrebbe essere schierato invece titolare contro il Parisa Germain. Potrebbe essere questa la scelta di Stefano Pioli che ci sta pensando. Uno dei due giocherà dall'inizio con l'Udinese e invece l'altro sarà utilizzato titolare contro il Parisa Germain. Quindi mettiamo in ballottaggio i due giocatori, il francese e il bosniaco. In questo momento Adli potrebbe avere qualche chance in più contro i friulani mentre Krunic contro il Parisa Germain. Questa è un po' l'idea di Stefano Pioli, attenzione pure a Giroud, perché non è detto che giochi dal primo minuto. C'è Jovic che spinge, o meglio Pioli, che vorrebbe preservare Giroud contro il Pari e quindi contro l'Udinese potrebbe iniziare dall'inizio, potrebbe cominciare la partita proprio Luca Jovic che fino ad ora ha deluso tanto. Ieri ce lo aspettavamo, è arrivato il comunicato dell'operazione svolta in Finlandia per Pier Kalulu. Rimarrà quattro mesi fuori, almeno quattro mesi, quindi se ne riparlerà a marzo, a inizio marzo. Quattro mesi sono tanti per un giocatore che comunque veniva utilizzato sia centrale che terzino destro. Operazione per la rottura totale del tendine del retto femorale sinistro. Quindi l'infortunio è serio, molto serio, è la rottura totale del tendine. Il Miana correrà ai ripari, sappiamo già che a gennaio prenderà un difensore centrale. Stanno salendo le quotazioni di Kelly, giocatore del Bormut, 25 anni, ha giocato anche con Tomori, nazionale Under 21, quindi con la maglia dell'Inghilterra. È un giocatore che va a scadenza nel 2024, al 30 giugno, quindi il Miana potrebbe anticipare di sei mesi quest'operazione dando al Bormut 3, 4, 5 milioni. Ecco, da quello che ci viene riferito, comunque da quello che possiamo capire, il Miana a gennaio non spenderà 20 milioni, 25 milioni per un difensore centrale. Vorrà fare, sì, un investimento, ma sarà comunque un investimento limitato economicamente. Si parla di 5, 6 milioni, quindi dobbiamo pensare ai giocatori in scadenza che possono anticipare di qualche mese l'arrivo al Milan dando magari un indennizio alla squadra che poi è destinata a perdere quel giocatore. Quindi, in parole povere, i giocatori in scadenza nel 2024 o al massimo coloro che stanno giocando poco attualmente che vogliono andare in prestito per prendere minutaggio o comunque per fare un'altra esperienza. Quindi, occhio anche ai prestiti e a giocatori in scadenza. Questi sono gli identikit principali per il mese di gennaio quando il Miana farà l'investimento sul difensore centrale. Oggi, vigilia di un Milan udinese che si gioca domani sera a San Silo. Parole di Stefano Pioli che analizzeremo nel pomeriggio. la probabile formazione vede appunto Mignano un balottaggio tra Florenzi e Calabria con Ciao Tomori e Tevernandez a centrocampo anche qui un po' di balottaggi Krunic con Adli Pobega con Musa anche perché Musa all'occorrenza potrebbe essere spostato in avanti quindi Luca Romero Jovic in balottaggio con Giroud e Rafa Leao invece a sinistra. Ci sono almeno due o tre rotazioni possibili. Vediamo cosa sceglierà Stefano Pioli. A dopo ciao